8 e 2 minuti, buongiorno Sicilia, torniamo a parlare di Fontana Rossa con due ospiti importanti Luigi Crispino che è decano del trasporto aereo civile, già gestore di aeroporti quindi insomma uno che conosce come funzionano le cose a Pantelleria e a Lampedusa e con molto piacere ospitiamo Antonio Azzarini che è il direttore di Antena Sicilia Telecola il nostro direttore, allora torniamo a parlare, dicevamo oggi c'è una notizia positiva perché da oggi ci saranno 4 voli in più all'ora, cioè diventano 14 proprio il giorno in cui sono arrivate le dure critiche di cui abbiamo parlato all'inizio del programma da Trantino poi noi abbiamo intervistato Pogliese che è un esponente importante di Fratelli d'Italia il ministro Usso, la Confindustria di Catania e tutti hanno detto in sostanza è stata sbagliata la gestione dell'emergenza, danno di immagine grave e anche danno per l'economia naturalmente che ne è derivato e infine mancate innovazioni in 11 anni è così Chispino, stanno così le cose? beh, diciamo che per dirla con il management della SAC fortunatamente non si è fatto male nessuno tranne che i 3 milioni di siciliani è il ridicolo di cui ci hanno coperto in tutta Europa quindi poi c'è anche fortunatamente ieri ha preso posizione Fratelli d'Italia anche con Enrico Trantino che è un uomo carico di dignità mentre il resto si stanno affannando a cantare tutti insieme stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte dei siciliani perché i danni sono assolutamente incalcolabili io devo fare l'avvocato del diavolo in questo caso non è che mi faccia molto piacere ma insomma è inevitabile ancora una domanda per lei ma i dirigenti di SAC dicono sostanzialmente ci siamo quasi per la riapertura del termine Allah che ricordo dopo 18 giorni non ha ancora riaperto però aspettiamo le autorizzazioni che non dipendono da noi premesso che non ci siamo per niente perché non è vero che sono 10 voli 130 voli in 18 ore fanno 6 voli 23 mila passeggeri fanno appena una media di 7 voli all'ora siccome la matematica ora capisco che alla SAC riescono anche a modificare la matematica ma sa ai poteri soprannaturali di Belzebù c'è sempre un limite quindi direi che i conti non tornano ma non torneranno neanche adesso perché hanno addossato perché non hanno fatto non ci sono stati errori tutto ha funzionato l'ingendio l'ha fatto scoppiare l'Etna è stata l'eruzione quindi ora per avere le certificazioni forse qualcuno pretenderà che le cose siano fatte in regola quindi non partiremo col terminal A ma la cosa più grave non prima del 10, 12, 15 di agosto ma la cosa più grave è che non siamo partiti col terminal B con la stazione Morandi che è agibile in quanto ci hanno fatto il Covid quindi il centro Covid che è più di 5.000 metri quadrati non capisco perché ammassarli tutti in una tenda di 54 metri quadri senza aria condizionata senza aria condizionata l'ho vissuta io che se prendo il fuoco in 30 secondi diamo da mangiare a tutta Europa nelle tende ci sono stato io ecco direttore ma la tua è un'esperienza diciamo importante perché tu sei un viaggiatore continuo ma io frequento l'aeroporto di Catania da qualche anno ma negli ultimi sei mesi nei tre anni precedenti l'ho frequentato con assiduità ma negli ultimi sei mesi ho preso sei voli a settimana caspita tre voli di andata e tre voli di ritorno ogni settimana che Dio mandava presso di noi e la cosa che mi stupiva io sono un viaggiatore come dire ho viaggiato molto e viaggio molto la cosa che mi stupisce è che in questi tre anni l'aeroporto di Catania è sempre stato il solito schifo e nessuno ha mai messo mani per fare manutenzione l'aeroporto è il biglietto da visita di tutti i turisti che arrivano in Sicilia perché non c'è altro modo per arrivare in Sicilia le strade fanno schifo le infrastrutture sono inesistenti gli aeroporti dovrebbero essere efficienti come sono efficienti in tutto il mondo l'aeroporto di Mombasa che è una città del Kenya corno d'Africa dovete vederlo è la Svizzera le aiuole rasate sono dignitosamente adeguate le sale dei passeggeri l'aeroporto di Catania fa schifo quando lei arriva in Sicilia viene accolto quando le va bene se Ita non fa due ore di ritardo come normalmente accade stiamo facendo qualcosina intanto se le va bene viene accolto dai finger viene scaricato sui finger e qualcosa funziona qualcosa funziona non significa niente perché poi entri dentro c'è scritto welcome to Sicilia su muri scrostati linoleum rovinati e arrivi in sala dove ritiri i bagagli con bagagli ammassati buttati dappertutto i buchi per terra la cosa è gravissima per terra c'è linoleum bene sotto ci sono dei buchi perché il pavimento in cemento probabilmente è acceduto ha acceduto ma negli ultimi tre anni quel pavimento è stato solo ricoperto da un foglio di linoleum e i buchi sono rimasti sotto perché dava fastidio probabilmente ai manutentori ma soprattutto ai dirigenti dell'aeroporto mettere a posto i buchi viene accolto poi in un posto viene scaricato agli arrivi sembra un suc è una cosa assolutamente inadeguata questo per quanto riguarda gli arrivi poi arrivi nei parcheggi che fanno schifo quanto l'aeroporto e cosa succede? io sono arrivato un giorno a mezzanotte le macchinette per pagare i parcheggi erano rotte cioè non si poteva infilare la carta di credito e accettava solamente monete ho chiamato i signori che dovrebbero gestire il parcheggio sai cosa è successo? ho chiamato mi ha detto guardi se si procuri le monete e gli ho detto ma scusi a mezzanotte e mezza ma dove procuro le monete che l'aeroporto è chiuso? guardi allora torni domani mattina e si riprende la macchina ma cosa da fare? cioè questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra il personale sono bravissime persone si vergognano anche di come noi trattiamo i turisti questo per quanto riguarda gli arrivi ma per terra le decalcomanie che danno l'indicazione sono consumate sfasciate nessuno si è mai pensato il presidente probabilmente non ha mai viaggiato ma nessuno dei dirigenti dell'aeroporto ha mai viaggiato perché probabilmente non arrivano neanche in aeroporto perché le decalcomanie per terra sono consunte quelle che dovrebbero indicare le direzioni questo se le va bene se arriva ai finger però se lei arriva a mezzanotte quando il personale probabilmente non c'è lei viene scaricato su dei pullman che hanno 50 anni non hanno mai fatto manutenzione io mi diverto a riprenderli hanno le tappezzerie sfondate l'aria condizionata non funziona quel signore ha la carta igienica sul pianale accanto alla guida per pulirsi il sudore lo sa perché? perché l'aria condizionata non funziona guardate lo stato dei pullman ma cosa dice un turista quando arriva e viene accolto così poi vengono stivati per risparmiare mettono 200 persone a 40 gradi dentro un pullman e fin quando non si riempie a tappo non lo fanno partire e tu rimani lì a 40 gradi senza aria condizionata ad aspettare che questi ti facciano partire questo è gli arrivi le partenze sono ancora peggio perché arrivi ti fai una lunga fila io ho la fortuna di non farla ma perché perché viaggio molto e quindi ho delle priorità hai del personale che ribadisco il personale che fa che gestisce l'aeroporto sono personale a modo che si vergogna di come del luogo dove sta bene io da tre anni passo il controllo delle valigie poi dalla sala in barche al controllo delle valigie ci sono cinque gradini ok c'è una una scala mobile di cinque gradini che serve per le persone disabili o quelle che hanno bassa mobilità benissimo io da tre anni quella scala mobile non ha mai funzionato mamma mia lo sa cosa sa che non ha mai funzionato loro la manutenzione dell'aeroporto è mettere un nastro e dire non funziona non funziona e quello è tutto se prende lo scivolo per le carrozzine si accorgerà che l'inolio è tutto staccato che la gente ci si può massacrare è fatto da schifo arriva in sala ma io le dico la verità arriva in sala quando tu arrivi in sala partenze non c'è spazio per la gente perché ci sono milioni di persone che partono ogni giorno quella sala è inadeguata per strutture per servizi i bar sembrano le mese voglio dire i bar sono uno schifo la sala la sala VIP la sala come si chiama la lounge per i viaggiatori i frequent flyer è un buco un buco ricavato in un soffitto dove accedere è difficilissimo fa schifo perché fa schifo è manutenuta da fare schifo le poltroncine sono scrostate ti danno quattro ci sono 35 persone e poi 100 persone fuori che fanno la fila bambini cose non si può è un utilizzabile è un buco ma è un buco tutto tutto così e questa era la descrizione fatta da Antonio Azzalini che è il direttore di Atenna Sicilia Telecolor del quinto aeroporto italiano con 10 milioni di passeggeri all'anno prima che succedesse l'incendio per chiudere Crispino come se ne può uscire? se ne può uscire cominciando a cancellare i dirigenti che io ho definito unfit quindi paragonandolo unfit poco non parli difficile che vuol dire? inadeguato significa inadeguato con una capacità di reazione all'incendio che è stata assolutamente nulla se non quella di chiudere l'aeroporto perché non possiamo negare la realtà dei fatti alle 8 alla luna di notte della domenica l'aeroporto è stato ufficialmente chiuso fino alle 8 del mattino ma alle 8 del mattino del lunedì l'aeroporto è stato dichiarato chiuso con notam quindi ufficiale sino alle 14 del mercoledì quindi l'unica cosa che reazione che c'è stata è stata quella di chiudere l'aeroporto cioè hanno mandato la Sicilia a casa i turisti a casa se non fosse stato per l'Enac che ha detto ma dove state andando aprite l'aeroporto per come potete reagiamo perché sono emergenze posso aggiungere un'ultima cosa io mi chiedo ma passi un management inadeguato ma coloro che pongono quel management a gestire un aeroporto così importante si sono stretti a corte cosa cosa perché io in tre anni ho visto lo schifo e questi che probabilmente stanno chiusi in casa perché non hanno visto niente niente se andate sulle piste vi prego di guardare gli estintori che stanno accanto alle aeromobili per favore io li ho filmati quelli non hanno sono vent'anni che stanno lì sono arrugginiti se scoppia un incendio vanno tutti lessi guardate non hanno cambiato neanche i birilli i birilli hanno 30 anni li usano per far muovere la gente e non li hanno cambiati un birillo costerà 2 euro ma che ci vuole è solo inadeguatezza hanno subito una ispezione ASA congiunta ASA ENAC va tutto bene sembra che dei barchi di sicurezza siano passati 4 ordini ah vi devo dire una cosa per chiudere solo comiso io per disperazione ho viaggiato da comiso sempre quelle 6 volte allora l'altro giorno l'altro giorno è successo pochi giorni fa ribadisco il personale si vergogna di come veniamo trattati noi utenti l'altro giorno io ho passato il metal detector con questo orologio al polso che pesa 200 grammi sono 200 grammi di acciaio l'equivalente di un coltello un buon coltello militare un pezzo di pistola non c'era il metal detector c'era ci sono passato non ha funzionato non ha funzionato io sono passato con questo al polso perché il metal detector non funzionano a comiso può essere che me ne sia accorto solo io che sono passato con 200 grammi di acciaio al polso può essere non è possibile sono indignato perché è una vergogna che la Sicilia e i siciliani siano trattati così perché poi i voli aerei in Sicilia sono i più cari io spedisco mio figlio in America con gli stessi soldi per cui faccio la tratta Catania Roma Catania e questo alla politica e alle persone che gestiscono i siciliani non interessa non è possibile abbiamo risolto il problema del carovoli comunque io mi permetto accetto abbiamo smesso di voi viaggiare perché in questo momento rispetto all'anno scorso stesso periodo un Catania-Roma Roma-Catania era 390 euro ora costa 19 euro abbiamo semplicemente cancellato dal panorama la Sicilia quindi non venendo più nessuno ora appena faremo il sistema aeroportuale siciliano con Vitoriggio e compagnia Bella sempre stretti a corte a quel punto avremmo risolto anche il problema del carovita perché chiuderemo pure i supermercati e il prezzo della vita calerà impietose le descrizioni e le analisi di Luigi Chespino che ringraziamo e del nostro direttore Antonio Attalini